Dare lustro a donne e uomini che rendono migliore la nostra società. E questa la mission del premio testimonianza per l'impegno civile, andato in scena ieri sera alla sala del Vasaria a Napoli. Alla fisica Gabriella Grayson, il riconoscimento per la sua opera di divulgazione scientifica, numerosi riconoscimenti a volontari, scienziati, membri delle istituzioni e comuni cittadini. Tra loro il PM Maresca, Maria Rosaria Coppola, la donna coraggiosa che difese un cittadino srilanchese e il poliziotto della mobile Nicola Barbato. Noi spesso pensiamo che l'esteriorità anche della professione possa essere poi quello che conta. In realtà dietro tutte le professioni, dietro tutti gli impegni c'è sempre l'umanità e quindi io considero questo un riconoscimento di un'umanità che io ritengo debba essere sempre messa al primo posto. Il clamore suscitato da questa vicenda ancora oggi mi sorprende perché io credo di aver fatto quello che tutti dovrebbero fare, naturalmente senza trovarsi in situazioni di pericolo, è ovvio, e io sapevo di non esserlo. E il clamore, mi ha meravigliato più il clamore che il mio gesto perché poi alla fine assistere ad un soppruso che cosa puoi fare, puoi solo intervenire. I poliziotti non è che si è e poi non si è più. Il poliziotto si nasce, si diventa sempre più forte e si va sempre avanti. Quello che ho fatto io è quotidiano, è quello che fanno tutti i miei colleghi tutti i giorni. Mettere a disposizione degli altri la propria vita pur di difendere i cittadini. Soddisfatto per la seconda edizione Pasquale Riccio. Siamo sicuramente contenti per il risultato raggiunto da questa serata, soprattutto quello che è importante non è il numero di presenze o le adesioni che sicuramente hanno la loro fondamentale presenza, ma è il messaggio che vogliamo lanciare, ovvero un messaggio che possa indicare ai giovani degli esempi da seguire e da avere come stella polare nel loro agire quotidiano.